Buonasera a tutti. Una piccola premessa. Mi hanno chiesto di fare un intervento inspirational, come si dice in gergo, per essere coerenti con il tema, con lo spirito del TED, ed è quello che ho preparato. Ci sono diverse immagini che vedrete che spero mi aiuteranno a raccontare una storia, questa storia. Vi abbiamo incuriosito un pochino? Sì, spero di sì. Sono gli ultimi contadini e le ultime contadine che abitavano le nostre campagne. Le abitavano fino agli anni 60-70. Poi se ne sono andati, hanno dovuto abbandonare questi luoghi e hanno anche, in un certo senso, voluto abbandonare questi posti quando è arrivata la modernità. Sono persone che hanno scelto il silenzio perché erano stanchi di una vita molto dura e si vergognavano forse anche un po' di appartenere a questo mondo così difficile, il mondo rurale. Sono persone che oggi vivono in mezzo a noi. Sono gli anziani che troviamo seduti nelle panchine a prendere il sole, i vecchietti che vivono nelle villette di periferia, nei condomini. Alcuni di loro ancora abitano dei casolari sparsi. Sono persone che comunque rappresentano una civiltà che possiamo dire oggi definitivamente è scomparsa. Nel XX secolo questo mondo che loro hanno abitato non esiste già più. Ringrazio un giovane fotografo scolano, Alessio Panichi, per questa bella foto che ci ha regalato. Questo è un vigneto del Piceno. E dunque io li chiamo aborigeni mezzadri. Adesso il tema è un po' provocatorio. Vorrei fare questo percorso con voi. Diciamo che il termine aborigeno è un termine che si riferisce ad una figura che nella storia dell'Occidente praticamente non è mai esistita. Forse lo leghiamo più a quelle culture indigene che abitavano o abitano tuttora delle zone remote del nostro pianeta dove si sviluppa un rapporto simbiotico con la natura per la sopravvivenza. Perché non esiste mercato? Perché non esiste capitale? Perché si vive in economie di sussistenza. Gli aborigeni dovevano necessariamente pensare a conservare il loro ambiente, dovevano pensare a mantenere in piedi un equilibrio più lungo possibile, per più tempo possibile, perché proprio dalle risorse naturali dipendeva la loro vita. Dunque erano molto attenti a prelevare il meno possibile e ad applicare delle tecniche rigenerative. Gli aborigeni e i mezzadri, quindi i nostri aborigeni mezzadri, conoscevano il segreto più intimo della natura, la rigenerazione. Quella che vedete è il logo di un'agenzia mondiale, una delle più famose agenzie mondiali che si occupa di sostenibilità e di economie circolari. Potete anche visitare il sito, è molto interessante. Attualmente è in corso anche un festival che può essere partecipato online, Disruptive Festival, che ci parla proprio di questo mondo che verrà, di queste economie circolari e della sostenibilità che dobbiamo abbracciare. La fondazione L.M.C. Arthur definisce un sistema autorigenerativo come un sistema che restaura, rinnova e revitalizza le risorse energetiche e materiali creando degli ambiti di sostenibilità che integrano i bisogni dell'uomo con quelli della natura. Questi sistemi si definiscono anche olistici, è un termine difficile ma forse qualcuno di voi l'ha già sentito. Il sistema olistico è quello dove la somma delle parti è sempre maggiore o al massimo uguale alle parti che hanno costituito il risultato finale, che vuol dire che in un sistema olistico non esistono scarti nella catena del valore. Dunque l'economia circolare, l'economia mezzadrile, sono entrambe accomunate dal fatto di essere sistemi autorigenerativi, sistemi terapeutici nei confronti della natura. Pensiamo dunque ai nostri contadini e alle nostre contadine. Pensiamo a questi anziani che dovevano passare questa vita nella loro terra in campagna e che dovevano curare i boschi, anche il termine curare. Dovevano preoccuparsi del suolo, evitare l'erosione delle piogge, dovevano rifertilizzare la terra, dovevano sostanzialmente conservare questo ambiente nella miglior forma possibile, nella migliore salubrità possibile perché da questo dipendeva la loro vita. Dunque era un mondo questo perfettamente circolare. In questo mondo io ho pensato di fare un viaggio ed è questa l'idea che volevo condividere con voi oggi, perché TED significa idee che vale la pena condividere. La mia idea è quella di togliere questi contadini, queste contadine, queste donne da questo ambito del folklore, dove per anni noi li abbiamo relegati. Perché considerati antichi, desueti, considerate figure del passato interessanti, sì, però insomma non più di tanto. In realtà io vorrei fare questo percorso e dimostrare che sono degli ecologisti antelittera, dimostrare che loro appartengono forse più al nostro futuro rispetto al presente, perché ci aprono gli occhi su uno scenario che forse noi ancora non siamo riusciti ad abbracciare. Un mondo che dovrà venire e che ancora non ci appartiene completamente. Per fare questo è necessario fare un reportage, questa è la foto di una delle donne che vivono attualmente nella valle del Tronto e che non rinuncia, pur essendo passata dopo gli anni Sessanta nel mondo della modernità, non rinuncia comunque alle sue abitudini, una aborigine ammettata. E quindi è necessario fare questo viaggio all'interno di questa popolazione a questi ultimi testimoni di una civiltà scomparsa e spero che questo darà un percorso che si potrà concludere nel più breve tempo possibile. Perché voglio fare questo? Perché penso che tutti noi siamo più o meno consapevoli del fatto che il nostro modello di vita non è più sostenibile, modello occidentale, comunque qualche problema ce l'ha. Questa figura rappresenta un po', diciamo, no? L'uomo moderno ha le presse con i problemi, l'inquinamento dell'aria, del suolo, il riscaldamento del pianeta, il buco dell'ozono, il cibo, per non parlare del cibo, siamo ossessionati dal cibo, vorremmo sempre sapere cosa mangiamo, da dove viene, vorremmo essere sicuri di avere i cibi biologici. Siamo preoccupati per la nostra salute e per la salute del pianeta. Abbiamo poi delle relazioni umane un po' più povere di quello che forse noi desidereremmo. Perché? Perché viviamo in un bono nomade, digitale, siamo un po' spaisati, insomma, sappiamo che dobbiamo cambiare, ma come? Parliamo un po' di economia circolare, un tema che avevo introdotto anche prima. L'economia circolare abbiamo visto che è un'economia della rigenerazione, è anche un'economia del riuso, ma non abbiamo detto che l'economia circolare si ispira al mondo naturale. Il mondo naturale, che è quello che adesso vi faccio brevemente vedere in questo video, per esempio di uno stercoraro, di un piccolo scarabeo che utilizza il letame dei grandi mammiferi per costruire la sua casa e per alimentarsi. E dunque in natura le materie circolano da uno stato all'altro senza generare rifiuti, non ci sono discariche in natura. E come succede con il mondo naturale, anche nell'economia circolare il primo principio ci insegna che i rifiuti di una specie sono cibo per un'altra specie, dunque le cose, gli esseri nascono, vivono, muoiono, poi tornano alla terra e così tutto funziona, il mondo va avanti così. E questo mondo non è forse anche il mondo dei nostri mezzadri, in questo piccolo podere chiuso, dove non c'era mercato, non c'era capitale, non c'era economia, dove si doveva coltivare la terra per dare poi al proprietario che te l'aveva dato in gestione il 50% delle tue risorse. Il mezzadro viveva in un mondo naturalmente circolare a rifiuti zero, mondo che veniva da molto lontano, veniva dagli antenati. Lui aveva a disposizione la sapienza, la conoscenza degli antenati, degli antenati, degli antenati. Pensiamo che addirittura nell'Italia centrale questo risalga all'anno 1000, ai primi contratti di enfiteosi dei monaci benedettini che stipulavano con le famiglie nullatenenti. E dunque possiamo dire che è così come quel famoso, io penso sia abbastanza famoso, mito africano del Sancofa, che è rappresentato da questo uccello che guarda la coda o dal cuore arricciato, dell'indigeno giovane che va sulla riva del fiume per attraversarlo e trova una canoa vecchia impolverata, la svuota e decide giovane di partire da solo verso il suo mondo. Si accorge a metà strada che deve tornare indietro a prendere qualche attrezzo perché diciamo non ce la poteva fare. Sancofa significa torna indietro e prendili. E anche nel nostro mondo degli aborigeni, dei nostri personalissimi aborigeni dell'Italia centrale, esisteva questo tempo che io chiamo il tempo sospeso. Il tempo nel quale le donne, le nonne, le figlie, le mamme, i bambini, si raccontavano le memorie, condividevano questo sapere attraverso gli stornelli, attraverso le barzellette, attraverso le favole, attraverso tutta quella narrativa che apparteneva al mondo contadino e che si sviluppava in un momento preciso, il momento della cura, quando si stava in casa, quando si facevano le faccende domestiche, quando si accudivano gli anziani o piuttosto i bambini. Questo tempo della cura, il tempo sospeso, il tempo della narrazione era il tempo delle donne, le mamme, le nonne, zii, pensate anche le nubili aggregate alla famiglia mezzaderile. È da queste donne, è da qui che io vi propongo di ripartire, perché le donne sono i custodi della saggezza, di un sapere senza tempo che forse ci può aiutare a guardare il nostro futuro. Grazie. 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 Grazie.